Per Mattia Caldara è stata una partita particolare, speciale, unica, che andrà nell'albo dei tuoi ricordi sicuramente più belli, lo diciamo noi. L'ultima partita a Bergamo, perché poi nella prossima stagione giocherai con un'altra maglia, commozione, emozione, fascia da capitano, l'applauso del pubblico, ti hanno acclamato, anche qualche lacrima, e ci sta. Sì, alla fine sì, mi è scesa qualche lacrima. Io, essendo di Bergamo e essendo cresciuto nel settore giovanile, so cosa vuol dire l'Atalanta per i bergamaschi e sono un po' orgoglioso di aver fatto parte di questa famiglia per tanti anni, quindi diciamo che le lacrime sono anche per quello, perché so quanto è importante per i bergamaschi l'Atalanta e dovrò ringraziarli sempre perché mi ha dato davvero tanto, anzi quasi tutto, perché senza l'Atalanta per non stare qui e adesso continuerò il mio percorso, spero di essere all'altezza l'anno prossimo e augurerò sempre meglio l'Atalanta. Mattia, che partita è stata quella di oggi? Era uno spareggio UEFA e finita in parità con il pareggio riaguantato proprio nei minuti finali, anzi in pieno recupero. Forse questo è ancora più bello perché dimostra quanto l'Atalanta ci tenesse a fare punti. Sì, assolutamente, ci abbiamo sempre creduto, anche quando eravamo sotto di un uomo, volevamo cercare il pareggio, abbiamo avuto l'occasione con Brian, dopo alla fine ci ha pensato Andrea e ha fatto un grande gol e quindi adesso abbiamo la possibilità di chiudere il discorso a Cagliari e proveremo sicuramente a fare le nostre partite e cercare di vincere. Ecco, diciamo che ci manca proprio davvero poco, proprio quel punto che ti dia l'aritmetica però, insomma, una stagione incredibile questa per voi? Sì, assolutamente, anche avendo più impegni abbiamo dimostrato sempre di metterci il cuore, abbiamo fatto grandi prestazioni da tutte le parti e credo che questa squadra meriti davvero di andare ancora una volta in Europa. Che cosa lascia a Bergamo, che cosa lascia all'Atalanta, Mattia Caldara? Sicuramente i valori, i valori da uomo, so che è stato un percorso molto increscendo il mio, ho fatto le mie esperienze via, ma mi sono servite tantissimo perché mi rendevo conto che all'inizio non ero pronto a fare subito il salto della primavera, la prima squadra. Ringrazio tutti gli allenatori che ho avuto, tutti sono stati molto importanti per me, tutti mi hanno dato tanto. Ovviamente ringrazio il mister Gasperini che credo sia quello che mi abbia dato più di tutti, mi abbia dato molta fiducia e quindi è merito suo se sono arrivato fino a qua. E poi ringrazio sicuramente la famiglia Percassi che è sempre stata di parola con me ma mi ha trattato come un figlio. Grazie a tutti.